ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo su Kerbal Space Program perché vi voglio spiegare come è stato come è successo l'allunaggio nel 1969 e lo farò usando questo gioco ecco non sarà un fallimento come quello che avete appena visto perché io sono estremamente appassionato di spazio e soprattutto di luna insomma e ho guardato tantissimi documentari e ho detto perché no non festeggiare questo cinquantesimo anniversario facendo una sorta di documentario tutto mio utilizzando questo bellissimo gioco questo bellissimo simulatore allora avevo tutti gli astronauti impegnati mi era rimasta libera solo Valentina quindi ho usato lei gli altri erano tutti in giro insomma non ce la faremo comunque la missione è utilizzato il razzo saturno 5 del 1969 dopo i primi anni degli anni 60 con tutto diciamo i primi missioni gemini le prime missioni Apollo in pratica questo è il razzo finale è un dlc che trovate dlc scusate una mod che trovate sul workshop in pratica il razzo è partito nel luglio del 1969 e adesso quello che vediamo qui è il razzo completo il razzo abbastanza accurato con tutti gli stadi e adesso ci stiamo diciamo guardando la parte in cui cerchiamo di sfuggire alla forza di attrazione della terra adesso abbiamo appena sganciato il primo il primo stadio e proseguiamo verso la raggiungimento della dell'orbita il viaggio sulla luna è composto da tre persone il meno il primo viaggio poi gli altri sempre da tre uomini sempre diversi in questo primo viaggio ricordiamo michael collins che è la persona che poi non l'unica dei tre che non è scesa sulla luna e poi vi spiegherò anche perché Neil Armstrong e Buzz Aldrin il primo uomo a scendere sulla superficie a mettere i piedi sulla luna e Buzz Aldrin il suo collega il progetto diciamo viene di andare sulla luna era una sorta di battaglia per la supremazia diciamo tecnologica contro la Russia gli americani si sono impegnati per arrivare per primi lì e hanno cercato di conseguire questo obiettivo assumendo dei degli importanti ingegneri missilistici tedeschi che dopo la guerra mondiale la seconda guerra mondiale hanno fuggito in America in pratica la prima teoria voleva l'uomo atterrare con vedeva l'uomo che atterrava con un razzo in verticale e ci fu una persona che non si cita tantissimo ed era U-Bolt questo scienziato teorizzò di fare un rendezvous e non di atterrare con un missile enorme sulla luna perché sarebbe stato estremamente rischioso poi ovviamente tutti noi ci abbiamo provato a far atterrare un missile in verticale sulla luna e lo facciamo ancora tuttora perché la maggior parte di noi che gioca a Kerbal non lo so fare non sa fare altrimenti insomma questo U-Bolt teorizzò questo rendezvous in orbita lunare e vi spiegherò in che cosa consiste ed è il motivo per cui non tutti sono scesi sulla superficie lunare in questo momento stiamo stabilizzando l'orbita il razzo ormai a breve sarà completamente diciamo libero da dalla forza che lo riporta a terra che lo fa precipitare andiamo a sganciare una parte e utilizzando poi dei retro razzi andiamo a staccare la parte che ormai non ci serve più e che non vogliamo più avere tra i piedi questa è una mod veramente accurata fatta bene guardate adesso ecco che stacca la la parte che non serve e con questi piccoli razzi viene spedito tutto via ora andiamo a fare a completare l'orbita dell'area intorno alla terra e come hanno fatto nel 1969 utilizzare la forza gravitazionale della terra per come effetto fionda in pratica prenderla in corsa fare in giro intorno alla terra prenderla in corsa e andare verso la luna viaggio di circa quattro giorni dal 16 al 20 credo se non se non ricordo male una volta raggiunti e intorno alla luna è l'inizio al bello perché inizieremo a vedere che cos'è effettivamente il rendezvous in pratica andranno la teoria di hubolt voleva due mezzi due due navicelle spaziali chiamiamolo così due razzi e la teoria prima di essere comunque approvata fu sperimentata con dei test intorno alla terra in orbita dove vennero mandati due razzi due navicelle diciamo e fatte incontrare e agganciare l'una all'altra ovviamente il test andò bene e quindi questa questo modo di agire fu confermato quello che ora vediamo nel video è la traiettoria che poi ci porta abbiamo fatto ipotizziamo ad aver fatto questo giro intorno alla terra abbiamo preso la rincorsa e stiamo andando verso la luna quando raggiungiamo la luna diciamo il campo gravitazionale della luna la nostra traiettoria viene deviata e in pratica veniamo attirati o comunque la nostra traiettoria viene deviata dalla forza di attrazione della terra tra l'altro luna che ha un sesto della gravità terrestre in questo caso vedete che noi se non correggessimo la rotta rimbalzeremo via quindi andremo a dare potenza con i nostri razzi e andremo a metterci in questo qua poi tra l'altro stavamo anche sbagliando tutto ci metteremo in orbita intorno alla alla luna una vita circolare a quel punto effettueremo l'operazione più interessante di tutte perché andremo a sganciare il razzo adesso ecco no lo stiamo già facendo perché siamo in orbita ecco è una persona abbastanza complessa da fare anche in gioco in realtà poi gli astronauti avevano piena padronanza dei comandi io no e io infatti ho puntato il bersaglio e poi ho accelerato pian piano fino che non si è incastrato in realtà sono operazioni molto più complicate perché muoversi nello spazio non è andare avanti indietro sinistra destra diciamo un po più complicato vedete abbiamo estratto il modulo di comando lo chiamiamo così al contrario e andiamo ad agganciarlo appunto al lemma che sarà il modulo lunare il modulo lunare è composto da due parti l'unità diciamo intera che scende e la parte inferiore che poi andremo a vedere che fa da piattaforma di lancio per ripartire per ritorno uscire dalla dalla superficie lunare quindi ora una volta agganciato correttamente come vedete adesso a brevissimo ci ci agganciamo e il modulo è a posto bashold in eni l'armstrong si spostano dal modulo di comando al lemma che poi si viene sganciato adesso lo estraiamo da questa fusoliera che serve diciamo a scopo aerodinamico per farlo uscire prendere al razzo diciamo una forma da razzo quindi tagliare l'aria ed essere appunto aerodinamico stiamo estraendo il lemma il lemma vedete che ha tutte quelle quelle parti lì di serbatorio per in realtà un po diverso vedete adesso bashold in eni l'armstrong si sono trasferiti nel modulo a destra che si sta staccando e quel modulo con lo stesso modulo va accende i razzi e va verso la superficie della luna inizia a scendere e non ci furono no ci furono problemi ce ne furono ce ne fu uno in particolare che rischiò di mandare a monte l'operazione perché il computer non era preciso non mostrava ecco non è un do proprio così però insomma io devo sempre fare di tutto per rovinare i progetti allora ci fu un problema il computer segnava dei dati diversi rispetto ad altre strumentazioni quindi i rischi erano due prima di andare lunghi e oltre un tot comunque sarebbero dovuti ripartire e la seconda cosa che poteva succedere a finire il carburante senza aver trovato un luogo dove atterrare e se non sbaglio oltre un tot di percentuale di carburante diciamo che entra un sistema di sicurezza in cui il il razzo viene si stacca e la piattaforma di lancio rilancia in alto il modulo con dentro gli astronauti e fortunatamente Neil Armstrong si era addestrato molto sul controllo diciamo già sulla terra per controllare questo questo macchinario questo veicolo e quindi riuscì a prendere in mano i comandi in modo manuale e di atterrare sulla luna andò in modo molto simile a quello che vediamo ora perché stavano per atterrare dentro un cartiere sul bordo di un cartiere noi stiamo esattamente per atterrare sul bordo di un cartiere e quindi ci misero anche un po' oltre ad essere andati oltre diciamo il quello che era una previsione del luogo dell'atterraggio però insomma era la prima volta e nessuno aveva mai fatto una cosa del genere e devono essere dei sentimenti veramente fortissimi il fatto di sapere di essere lì ma essere anche consapevoli che non c'è nessuno che ti può tirare fuori dei problemi se lì c'è qualcosa che si rompe o che non va e niente ora io sto per atterrare e a brevissimo saremo sulla superficie lunare dove andremo a vivere gli ultimi momenti perché in pratica loro atterrarono si riposarono e poi nilla armstrong scese per primo sulla superficie pronunciando poi la classica frase rimasero sulla luna per circa due ore e mezza in realtà se non ricordo male vediamo se mi ricordo due ore 30 minuti 40 secondi una volta del genere pratica atterrarono io adesso qua l'ho fatto sono imbalzato più volte perché in pratica sono un disastro a fare queste cose di precisione avevo già aperto tutto dovuto chiudere per atterrare correttamente raccolse o degli dei campioni lasciarono partire delle strumentazioni scientifiche e così via e ripartirono e per anche dei problemi a ripartire perché si era rotta la leva rivestendosi l'avevano rotta ma buzz holdering riuscì a ripartire far ripartire tutto facendo un contatto grazie a una penna ecco insomma e la penna innescò questa operazione qui questa questa reazione chimica che risparò in aria il il modulo ora il rendezvous in orbita lunare è questo in pratica questo modulo non come sto facendo in gioco perché non sono assolutamente capace se per qualcuno vuole spiegarmi come fare come cosa guardare per fare un rendezvous ben venga in pratica in che cosa consiste questo rendezvous questo modulo adesso torna su si riaggancia l'astronave su cui è una navicella scusate dove era rimasto michael collins che è l'unico uomo appunto di questi tre non essere sceso perché è rimasto sul modulo intorno vedete che orbita lì con l'orbita bianca si riaggancia gli astronauti trasportano tutti i materiali raccolti e se stessi appunto sul modulo di comando sganciano il lem che non serve più che viene spazzato via e poi accendono i motori in direzione della terra rientrano sganciano tutto e poi l'abbiamo visto mille volte su kerbal space program aprono il paracarote e ammarano insomma quindi questo è un riassunto di quello che è il viaggio sulla luna è stato un video bonus che ho voluto farvi perché poi io sono appassionatissimo di spazio e soprattutto di allunaggio ho visto mille documentari fatemi sapere se avete gradito l'idea se il video vi è piaciuto se insomma è un format un po nuovo questo e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay alla prossima ragazzi ciao ciao